È un evento quello che si consumerà domani a Recco con il compleanno di Aldo Cervetto, l'uomo che, dati Istat alla mano, è il più anziano del Golfo Paradiso. Domani compirà cent'anni e, come sottolinea il nipote Silvano, memoria dei recchesi, se questo traguardo è già stato tagliato da alcune donne, lui sarà il primo uomo in città ad arrivarci. Il meccanico dell'Andrea Doria, poi barista e ristoratore, Cervetto, 14 anni fa, è uscito in colume dalla terribile caduta dal tetto di una palazzina. Anche da parte nostra, allora, complimenti e auguri.